Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col Meteo. Dal satellite osserviamo una perturbazione in transito al sud, quella che ha portato delle piogge e dei forti temporali nelle ultime ore su buona parte delle regioni adriatiche. Questa perturbazione ora si muove verso est e ne conseguirà un rapido miglioramento del tempo, seppur non mancherà qualche raffica di tramontana. Nel corso di questo sabato, quindi tempo complessivamente sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento in più a ridosso dei monti, però non ci aspettiamo. Fenomeni annessi, venti ancora a tratti sostenuti, moderati dai quadranti settentrionali, specie al mattino, graduale attenuazione nel corso della giornata. Mari quindi che risulteranno mossi o molto mossi. Le temperature decisamente più basse rispetto al gran caldo dei giorni scorsi, notate le massime ovunque, al di sotto dei 30 gradi, minime tra 13 gradi di L'Aquila e i 22 di Pescara. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.